L'interpretazione di questa parabola sembra facile. Alla fine dei tempi ciascuno renderà conto di ciò che ha ricevuto. Si potrebbe dire che è un po' un'immagine del giudizio finale. Però la domanda che io mi sono sempre fatto di fronte a questa storia, di fronte alla parabola dei talenti, è ma perché questo servo, questo che aveva un solo talento, quindi quello che ha ricevuto meno di tutti, viene condannato così duramente. Sembra che ci sia un particolare accanimento da parte del padrone nei confronti di questo servo. Ci sono alcune cose che dobbiamo comprendere per capire la parabola, per dare a tutte le immagini che ci sono fornite dalla parabola il loro giusto collocamento. Prima di tutto, i talenti sono una grossa somma. Anche quella che è stata data al servo, diciamo, meno capace, è una somma enorme. Sapete, il talento era sia un'unità di misura di peso, che corrispondeva a un peso, diciamo, intorno ai 30-40 kg, quindi, insomma, un peso consistente. Nello stesso tempo, da un punto di vista di moneta, di valore monetario, il talento era composto da 6.000 denari. Il denaro, cioè un denaro, era il normale stipendio di un lavoratore, di un manuale. Quindi, un operaio che andava a lavorare nella vigna, veniva ricompensato con un denaro. Mi sembra che sia proprio questa la ricompensa promessa ai famosi operai dell'ultima ora, nella parabola anche che tutti conoscete. Quindi, 6.000 denari corrispondono, credo, se ho fatto bene i calcoli, a 16 anni e mezzo di lavoro. Bene, quindi, se fate 6.000 diviso 365, viene una cifra, appunto, intorno ai 16 e mezzo, più o meno, 16-4 e qualche cosa. Quindi, è una grossa somma. Cioè, un talento solo equivale al lavoro di una persona per quasi 17 anni. Cioè, un. Una cifra importante. Quindi, è vero che non è stato dato a tutti allo stesso modo. Il primo servo riceve 5 talenti, il secondo ne riceve 2, e l'altro, l'ultimo, ne riceve uno solo. Ma anche quello che ne riceve uno solo, riceve una somma enorme. In più, un'altra cosa, un altro dettaglio sul quale ci dobbiamo soffermare, è che il padrone agisce in modo razionale. Cioè, non è che così, dà i suoi talenti a caso, dà i suoi beni ai servi, secondo le loro capacità. Cioè, secondo quanto è nelle loro forze. Letteralmente, l'espressione è questa. Diedi a ciascuno secondo le loro forze, che noi poi traduciamo secondo le loro capacità. Qui si intendono anche capacità pratiche, capacità intellettuali. Cioè, quindi, le doti naturali di una persona. La parola greca indica non le doti soprannaturali, ma proprio le doti naturali. Quello che tu sei capace o non sei capace di fare. Allora, quindi, il padrone ragionevolmente conosce bene i suoi servi e dà una porzione dei propri averi, sapendo doveva partire per un viaggio, in amministrazione. 5 a 1, 2 a 1, e infine un talento all'ultimo. Quando torna, c'è la resa dei conti, letteralmente, come si dice. e ciascuno dei servi porta il frutto dei suoi investimenti. Il primo ha trasformato quei cinque talenti raddoppiando il capitale. Sapete che, no? Più si hanno soldi, più è facile fare soldi. E quindi, questo primo servo potrebbe anche starci un po' antipatico, come se fosse il primo della classe. Ho ricevuto cinque talenti, e guarda che bello, ce ne ho altri cinque. Il secondo è la stessa cosa. Però, in fondo, se ci pensate bene, non è che all'inizio il padrone avesse chiesto io ne voglio altri cinque quando torno, li ha affidati questi beni ai suoi discepoli, scusate, ai suoi servi. Ha affidato questi beni. È contento di aver ricevuto il raddoppio, no? Quindi di aver trovato diciamo, un investimento che ha reso al cento per cento. Di fatto, si potrebbe dire che il padrone ha investito i suoi beni sui suoi servi. Cioè, il vero investimento sono stati servi. Ed è stato premiato in questo investimento per chi ha ricevuto il doppio, il cento per cento. Ma alla fine, ecco il punto nodale, cioè l'ultimo servo. L'ultimo servo restituisce quello che ha ricevuto. Attenzione, non ha rubato, non ha diciamo, sperperato questa risorsa, questo talento. Non è che ci ha fatto le feste e l'ha consumato come se fosse suo. No, ha fatto un'altra cosa. Lo ha nascosto nel terreno. Cioè, lo ha messo in un luogo dove stava al sicuro, questo vuol dire, stava lì al sicuro, per poterlo restituire. Ma perché allora il padrone si arrabbia così tanto? Allora, il punto è esattamente questo. Fate caso a che cosa dice il servo. Perché la chiave per comprendere la parabola è l'idea che i servi hanno nella loro mente del loro padrone. Il primo servo, quello bravo, quello secchione, e il secondo, altrettanto bravo, intuiscono che il padrone dà loro dei beni per farli fruttare. Quindi, non hanno bisogno che gli venga ordinato. Semplicemente comprendono che se hanno a disposizione del denaro, se ne può fare altro. Cioè, sono dei veri e propri coraggiosi imprenditori e gente che non si sente soltanto il custode di ciò che ha ricevuto, ma si sente anche in dovere di far fruttare ciò che ha ricevuto. Cioè, hanno una visione proattiva della vita, della loro responsabilità. Non sono passivi, non stanno semplicemente a quello che il padrone ha detto. Intuiscono che il loro padrone sarà felice di vedere che loro sono stati in grado di far fruttare la parte di beni che era stata loro affidata. L'ultimo servo, quello, diciamo, meno capace, che cosa fa? Forse perché ha meno fiducia in se stesso, ma forse ancora di più perché fraintende completamente chi è davvero il suo padrone, pensa di dover difendere a tutti i costi ciò che ha ricevuto e di doverlo restituire così com'è. Sto a posto, ti ridò quello che è tuo, non ho preso nulla, l'ho nascosto, l'ho messo da parte e adesso eccolo qui. Ma fate attenzione bene a quello che dice Signore, sapendo che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso attenzione qui preso dalla paura sono andato a nascondere il tuo talento. Allora, quest'ultimo servo ha una concezione del suo padrone come di un uomo crudele, disonesto se volete, eccessivamente esigente. Tu vuoi, pretendi senza aver dato. Questo significa raccogli dove non hai sparso. Cioè, tu hai un atteggiamento possessivo verso le cose e io ho avuto paura di te. questo aver paura del padrone non vi ricorda niente. A me ha fatto subito pensare a un'altra famosa scena della Bibbia, non del Vangelo, ma che qualunque lettore del Vangelo dovrebbe avere ben presente, che è la scena del primo incontro fra Dio e Adamo immediatamente dopo la disobbedienza. ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Adamo di fronte a Dio ha paura. Consapevole della sua fragilità non riesce ad affrontarlo e si nasconde. Ha qualcosa da nascondere, evidentemente, ed è anche consapevole di questo. Ho avuto paura e mi sono nascosto. È la definizione stessa del peccato. Il peccato è allontanarsi da Dio e avere di Lui una visione sbagliata. Allora, di che cosa viene accusato dal padrone questo servo? e le parole anche della risposta del padrone sono molto interessanti perché il padrone non gli dice hai sbagliato tutto ma prende sul serio estremamente sul serio quello che il servo dice di lui. Ah, tu sapevi che io sono cattivo che io sono esigente che io sono spietato e nonostante questo tu hai nascosto il talento? Se tu veramente avevi paura avresti dovuto a maggior ragione sapendo che sono molto esigente affidare il denaro a dei banchieri cioè praticamente investire il tuo denaro neanche dovevi far la fatica di farlo anziché seppellirlo anziché nasconderlo avresti dovuto metterlo in gioco questo denaro avresti potuto affidarlo a dei banchieri non dovevi neanche impegnarti tu avresti potuto chiamare qualcuno di cui tu ti fidavi eventualmente che avrebbe potuto portare a frutto ciò che io ti ho dato quindi qual è il problema? Il problema è dublice cioè da una parte c'è il servo che pensa male del suo padrone e quindi cambiamo uscendo dalla metafora l'uomo che equivoca l'idea di Dio e lo sente come duro spietato esigente ma perché lo percepisce così? perché ne ha paura? perché non lo ama? perché non c'è un canale di comunicazione vero tra lui e Dio? c'è un rapporto appunto di servitù non un rapporto di amicizia di confidenza non c'è iniziativa in questo servo ma soprattutto questo servo viene definito pigro e malvagio mentre gli altri venivano definiti servi fedeli allora dovete sapere che la parola fedele in greco pistos ha due significati può significare sia affidabile quindi bravo servo affidabile degno di fiducia e quindi meritevole di ricevere un premio perché hai dimostrato di essere affidabile ma significa anche colui che ha fede cioè il credente quindi diciamo che il sfumatore della parola greca pistos sono due cioè la sfumatura attiva e passiva contemporaneamente cioè pistos il fedele in greco e sia colui che è credibile sia colui che è credente la parabola ci sta dicendo che non si può essere credibili se non si è credenti e non si è credenti veri non si può essere credenti veri se non si è credibili se non si è affidabili insomma che cosa fa questo servo malvagio perché è malvagio perché è pigro perché non ha fede non ha fede ma non è che non ha fede nel senso che non crede in Dio lo sa bene che il padrone c'è e sa bene che il padrone verrà a giudicarlo ma non ha fede nel senso che sbaglia completamente la sua concezione di Dio il suo giudizio sul padrone su Dio non ha un rapporto che funziona con Dio non è onesto fino in fondo si fa guidare e dominare dalla paura ma la paura diventa poi anche una scusa una scusa della sua inattività del suo decidere di non fare del suo delegare come a dire ma mica è affare mio mica è colpa mia mica è mia responsabilità e in questo ricordo anche un po' un altro famoso peccato quello di Adamo quello di Caino che dice ma io mica sono il custode di mio fratello mica sono il suo responsabile non rispondo di lui vedete quindi la mancanza di fede non è soltanto un non credere nel senso di non accettare delle verità rivelate noi abbiamo una concezione molto intellettuale della fede cioè che consista nell'accettare delle verità in realtà la parabola di Talenti ci dice che noi accettiamo delle verità e delle responsabilità e ci assumiamo delle responsabilità perché comprendiamo che il nostro rapporto con Dio esige da noi una risposta attiva una risposta nei fatti mettiamocelo bene in testa questo lo ripeto tante volte non esiste nel Vangelo di Matteo una divisione tra la fede in senso di teoria e la fede in senso di pratica il Vangelo di Matteo è la sintesi perfetta di quel famoso detto di Giacomo che la fede senza le opere è morta la fede senza le opere non esiste secondo Matteo la fede può essere soltanto una fede operosa allora ricapitolando come la parabola delle vergini aveva sottolineato la necessità di fare una scorta di sapienza per poter essere pronti all'incontro con lo sposo che torna all'incontro con Dio al ritorno di Cristo se volete alla sapienza intesa non come sapere tante cose ma come appunto saper vivere saper riconoscere il valore della vita saper quindi anche lì fare scorta saper prevenire saper agire affrontare la vita con saggezza con intelligenza un'intelligenza pratica così il Vangelo di Matteo con la parabola di Talenti che viene subito dopo la parabola delle vergine ci dice che l'altra cosa che è necessaria per prepararsi all'incontro con Dio l'altra cosa necessaria essere sempre pronti a rispondere a Lui è la fede ma la fede intesa come fede che agisce non fede pigra una fede attiva una fede che sia dire che fare ecco insomma una fede che sposa perfettamente la teoria e la pratica grazie a tutti Grazie.